La fattoria Fonte Veneziana, situata in Toscana, è composta da terreni posti ad oriente dell'antica Lucumonia etrusca di Arezzo. Il nome della fattoria, apparentemente insolito trovandosi in Toscana, si rifà a quello di un gruppo di edifici denominati appunto Fonte Veneziana, posti poco al di fuori della porta crocifera di Arezzo, lungo il percorso del decumano massimo etrusco di questa città, nel luogo di rinvenimento della stipe etrusca del VI secolo, detta appunto della Fonte Veneziana. È in uno di questi edifici che si trova ancora la sede della fattoria. L'azienda possiede 18 ettari, posti tra i 350 e i 600 metri di altitudine, piantumati con 2.600 piante di olivi di 30 anni di età, da cui produce due oli, il villada da cultivar moraiolo e leccino dalla veste dorata dai riflessi verdi e il corte di crugliano da cultivar moraiolo e leccino dal colore verde. Posta al meridione della collina di San Donato, la città di Arezzo è la chiave che apre a quattro grandi vallate. Il Val d'Arno superiore, storico luogo di contesa nel Medioevo tra Firenze ed Arezzo, la Val di Chiana, nota come il granaio d'Etruria, il Casentino che accoglie il tratto iniziale del fiume Arno, la val tiberina solcata dalle prime acque del Tevere. Uno dei quattro quartieri storici aretini, poco al di fuori della porta crocifera, è Fonte Veneziana, come ho già detto, luogo di ritrovamento di resti etruschi del VI secolo a.C. Negli anni 1940 questa zona viveva momenti di splendore, con i mattoncini ben curati, il basamento pulito, la parte ornamentale impeccabile nella sua semplicità. E ancora oggi rimane un punto caratteristico della città, al centro però di numerosi dibattiti per tutelarla. Per quanto riguarda l'enogastronomia, Arezzo si arricchisce dei prodotti tipici delle quattro aree geografiche che la circondano. Il valdarno con i suoi gallinaci, protagonisti di piatti come la zuppa di pollo del Tarlati, la valdichiana con l'allevamento della chianina, pregiata razza bovina dal manto bianco, il casentino con il tartufo nero e le patate rosse di cetica da assaporare nei tortelli, la valtiberina con gli spaghetti tirati a mano, i brigoli di anghiari e i marroni di caprese. Indiscussa protagonista della cucina retina è la cacciagione accompagnata da erbe di campo. Anche l'anguilla è un piatto tipico, da gustare in uno spiedino con pane e foglie di salvia. L'abbucciato aretino è invece un pecorino al latte crudo con l'occhiatura irregolare, frutto di una particolare lavorazione che risale già all'anno 1000 e ai monaci camaldolesi dell'omonimo eremo casentinese. Tra i dolci spicca il gâteau aretino, un tronchetto imbevuto di alchermes, il liquore preferito dai medici e rivestito di cioccolato.